La collezione Fall Winter 15-16 è composta da 130 articoli diversi l'uno dall'altro, tutti con delle caratteristiche naturalmente molto diverse l'una dall'altra. Si parte dai tessuti fermi, più tradizionali, più vintage, a tessuti più elastici, più leggeri, a tessuti che vanno a sostituire immagini come la felpa piuttosto che il jersey. Tutto questo per cercare di abbracciare a 360 gradi tutte le esigenze del nostro mercato, che è Worldwide. Non mi dilungo nel descrivervi naturalmente tutti i 130 articoli, però mi preme fare un palio di precisazioni per quanto riguarda l'elasticità dei nostri tessuti, che si differenziano e si caratterizzano per una grande elasticità e confortabilità, diciamo, per una grande comodità e per un grande potere di recupero. Grande potere di recupero significa che grazie alla nostra fibra in trama di lycra e poliuretano e cotone in core span, permettono al tessuto di avere grande elasticità ma grande rientro. Questo grande rientro si traduce, in poche parole per il nostro consumatore, in non avere più quei fastidiosissimi effetti di bagging sul ginocchio piuttosto che perdita di una taglia in vita, che portano poi i nostri jeans ad essere rilavati per ritornare nella forma originale. Questo nuovo filato che è il nostro recall permette appunto di tornare il tessuto nella sua forma di origine e questo l'abbiamo applicato a tutti i nostri tessuti stretch, dai comfort che sono elasticità fino al 20%, ai nostri X-Men con elasticità 35-40% fino a Reform XP che hanno elasticità dell'80%, l'80% significa che il tessuto si quasi raddoppia della sua grandezza. L'ultima innovazione secondo me è il nostro Blue Jean, che è molto simile a un jersey, molto leggero, con un'elasticità di 360 gradi, non più un solo trama, un trama ordito come un B-stretch, quindi un tessuto molto comodo come potete immaginare e anche molto leggero, che nasce da una tendenza, un'esigenza americana, posso dire, chiamato lo Yoga Pente. Lo Yoga Pente perché i ragazzi che indossano un determinato abbigliamento per praticare yoga volevano all'uscita della lezione yoga rivolgersi ad altre attività, ad altri svaghi, quali shopping, quali aperitivi o quali altre attività che non siano quelle dello yoga a fine a se stesso e allora abbiamo pensato ad interpretare questa esigenza su un denim, quindi su un articolo che, come nella felpa che vi dicevo prima, può essere confezionato con gli stessi modelli, con le stesse strutture, gli stessi macchinari e trattato anche in lavanderia con svariate tecnologie, come la sabbiatura, lo stone wash, lo scraping e vari altri, anche in un tessuto con queste grandi performance che non potrebbe essere fatto se non con questa tipologia di tessuto reforme.